buongiorno allora oggi siamo il 3 di marzo del 2024 sto facendo un po di talee di melograno questa varietà dente di cavallo come potete vedere qui già l'ho messo e dobbiamo scegliere rami massimo di due anni come questi qua con due o tre gemme che andiamo a sotterare oggi con il cortello andiamo a graffiare un pochettino qui qui sotto sotto la gemma che mettiamo esposto diciamo un po il cambio e dove diciamo avviene la radicazione andiamo a entrare un pochettino inclinato in modo che che la limba fa meno fatica quando sarà il momento che entra in vegetazione ovviamente dobbiamo mettere dobbiamo tenere se mettere l'umido spruzziamo sempre l'acqua in modo che che le talee non vengono disidratate diciamo così e li mettiamo io però le lascio stare qui in sera che c'è una temperatura all'ingica 18 20 gradi e così la radicazione diciamo avviene fuori c'è ovviamente c'è un pochettino più freddo va bene ci vediamo ai prossimi video